bene ed eccoci al condominio campo principe il trilocale che vi ho accennato scorso settimana siamo di fronte alle piste da sci di clotesi infatti se ci giriamo guardate le nostre spalle c'è la seggiovia che porta a clotesi questo è un piccolo ingresso dove si apre subito sulla grandissima zona giorno guardate che luce che entra dalla grande retrata l'esposizione di questa grande retrata è a sud ovest adesso sono le 7 di sera e c'è ancora il sole altissimo ritorniamo nell'appartamento come vedete siamo a un ultimo piano ed è molto bella tutta l'altezza del soggiorno a questo piano troviamo una camera retto la cucina abitabile e un bagno torniamo nel corridoio dell'ingresso dove c'è la cucina abitabile e il bagno proseguiamo con il giro della casa andiamo al piano superiore dove c'è una camera da letto matrimoniale più il secondo bagno ed eccoci nella parte superiore qui la seconda camera da letto matrimoniale con doppia esposizione per finire da questa parte il bagno che serve la parte superiore della casa il giro della casa è terminato spero che vi sia piaciuta continuate a seguirci sui nostri canali social e il nostro canale youtube ciao